Il giorno 5 gennaio nella chiesa di San Bucca, al margine rosso litorale di Quartu, si è svolta la cerimonia promossa dal centro culturale Campidano, in cui Cocola Rosas, presidente dell'associazione di volontariato SOS di Quartu, ha ricevuto il premio su Nini Edu 2014, presenti anche i volontari dell'associazione SOS di Quartu nel strato della premiazione. Complimenti un salito particolare alla signora Rosas, che è tra l'età della mia nonna, una persona che io vivo tantissimo, perché io provengo da tutto il mondo, provengo da tutto il mondo della sanità, quindi conosco il mondo del volontariato, che so cosa significa la volontariato, il tempo che sopra la famiglia, la passione che io ci mette e i grandi sacrifici. Spesso però anche le organizzazioni comunali, la politica, sono abbastanza attenti e sensibili a quelle che sono veramente le necessità, anche le richieste che ci fanno le varie associazioni, che svolgono città o la fondamentale dell'equipo per me. Essere buoni per fare del mondo, non per essere una cosa speciale, no, noi dobbiamo fare questo, sentiamo che c'è bisogno e corriamo, corriamo. E' un segno di pericolo, vi prego, quel rosso delle, quel rosso dei nostri ragazzi, questi ragazzi, è un segno di pericolo. E' un segno di pericolo, senza pensare che il pericolo è un segno di pericolo.